bentornati sono marco vigilini questo è il terzo video di una serie che riguarda il mondo del coding nello specifico l'interazione tra scratch e il magnifico mondo di minecraft allora clicco su play e poi seleziono questo mondo che rappresenta il mondo che avevamo avviato nei precedenti due video e che ci permetterà di arrivare di fronte alla sfida numero 3 che è quella che avevamo c'eravamo lasciati dopo aver risolto quella laggiù che la sfida numero 1 e questa più vicino che la sfida numero 2 ok a questo punto e prima di leggere questo cartello e clicco sul tasto t e avviamo cioè l'interazione tra scratch e minecraft e digito slash code come ormai immagino abbiate capito premo invio viene avviata in automatico questa app clicco sull'app questa possibilità di selezionare i tre pulsanti abbiamo detto che stiamo interagendo con da scratch in minecraft clicco su questo pulsante e mi compare il sito di scratch seleziono carico nello specifico il progetto che avevamo iniziato ci aveva portato alla risoluzione della della sfida numero 2 cerco di zoomare al massimo poi porto in basso questo insieme di istruzioni premo il tasto spazio e come vedete in scusate in minecraft vicino a me ci dovrebbe essere il mio bel personaggio ok e cosa vi volevo dire e proviamo a leggere questo cartello allora sfida numero 3 c'è il movimento verticale e in alto e in basso perché vi dico questo questa è la sfida che ci attende ok il nostro personaggio dovrà entrare in questo labirinto e percorrerlo fino a uscire da questo lato ok diversamente da altri strumenti che sono per lo più bidimensionali minecraft permette anche un movimento in alto e verso il basso ok immaginate i vostri robottini che avete in classe e con minecraft i vostri robottini in classe rimangono sempre sul pavimento quindi i movimenti andare avanti andare indietro girare a destra girare a sinistra in minecraft il nostro agent può anche andare in alto e anche andare in basso vi faccio vedere semplicemente come questo comando di move su doppio clic il nostro agent è in alto clicco su giù doppio clic il nostro agent si ritrova in basso allora il nostra sfida e cosa ci dice che il nostro personaggio deve riuscire a raggiungere il piatto a pressione dorato alla fine di questa sfida inoltre una volta che il nostro agent diciamo riuscirà a toccare quei piatti a pressione bianchi il il labirinto diciamo subirà delle modifiche questi blocchi questi specifici questi qui verranno retratti e il nostro agent possa potrà continuare nella sua esplorazione e avrai bisogno di muoverti anche in alto ed in basso per risolvere questo e questa sfida la domanda più bella è questa potete permettere al vostro agent di ricevere una serie di istruzioni affinché quell insieme di istruzioni permettano in automatico di far arrivare al nostro agent fino sul piatto a pressione dorato che è perché possiamo pure diciamo posizionarci qui e dire al nostro agent io lo teletrasporto e gli dico caro agent vai avanti vai avanti vai avanti poi va in alto avanti eccetera eccetera a mano ok qua ci stiamo chiedendo è possibile per il nostro agent trovare un insieme di istruzioni che gli permettano di farsi delle domande ed uscire in automatico facendo le dovute valutazioni fino alla fine della sfida ok non è semplice ok però ci proviamo allora per fare questo innanzitutto voglio farvi vedere dei nuovi blocchi per introdurre questi blocchi ho bisogno di un personaggio scratch in modo tale che io possa avere il i blocchi di aspetto quindi utilizziamo per esempio quando cliccherò su questo sprite il nostro sprite cosa ci dirà ci dirà il valore di questo blocco inspect at ok questo blocco ok messo qui se io davanti al nostro agente cosa c'è non lo so doppio clic compare molto velocemente ok qualcosa per questo detto ho utilizzato questo blocco perché quando io premo sul nostro a sprite lui ci dice air davanti al nostro agent qui davanti a lui c'è dell'aria c'è un blocco d'aria qui davanti c'è un blocco d'aria ok a questo punto proviamo a chiederci cosa c'è giù sotto il nostro agent che c'è del blocco di grass ok qua anche questa mi sembra un blocco diciamo di erba ok ma in minecraft facciamo andare un po avanti il nostro agent in minecraft quel tipo di blocco viene chiamato grass pat ok doppio clic grass pat quindi questo tipo di blocco viene chiamato grass pat facciamo andare avanti fino a questi blocchi qui il nostro agente chiediamoci come aspettare per aspettare rosso e move forward move back quando avremo stone brick ok questi blocchi ok questo qui che state vedendo questo blocco qui è un blocco che è chiamato stone brick quindi tutti questi blocchi qui sono fatti e chiamati in minecraft stone brick qual è il concetto è che fino a che il nostro agent rimane su degli stone brick o si trova davanti a lui in alto o in basso degli stone brick sicuramente siamo ancora all'interno del nostro labirinto quando invece si troverà un grass pat sotto di lui saremo arrivati a questo punto e il nostro agent probabilmente sarà uscito fuori dal labirinto ok se siete d'accordo con me io tornerei su questa parte dello stage dove stavamo inserendo i nostri blocchi risolutivi e andrei ad affrontare questa terza sfida quando premiamo il tasto 3 faremo un nuovo messaggio il messaggio 3 quando riceveremo il messaggio 3 cosa dobbiamo fare dobbiamo ripetere fino a qualcosa una serie di istruzioni che cos'è che dobbiamo ripetere andiamo a prendere questi blocchi e troviamo il blocco block name e il blocco decoration name nel blocco block name troveremo i blocchi denominati denominati stone brick ok nei blocchi decoration name avremo il nostro bctf grass pat ok a cosa ci servono questi due blocchi perché noi ci chiederemo che fino a quando il nostro agent sotto di lui non avrà trovato un blocco inspect dove l'inspect mi sposto un po così rimane più leggibile riduciamo fino a quando sotto di lui giù il nostro agent non troverà un blocco di grass pat e lui sta all'interno del labirinto e lo deve risolvere ok si deve fare una serie di domande se c'è qualcosa davanti a me farò questo se c'è qualcosa sotto di me posso fare altro eccetera eccetera ragionando sulla stessa logica duplica io mi troverò davanti a questo problema ok quindi non sono uscito dal labirinto e mi troverò per esempio qui in questo blocco qua in alto ok la domanda sarà ho trovato il grass pat sotto di me no sono all'interno il labirinto e decido cosa fare se ho un blocco se non ho un blocco davanti a me vado avanti se non ho un blocco sotto di me vado in basso ok a questo punto risolviamo questa parte quindi se io ho un blocco davanti a me non ho un blocco move forward io vado avanti mi torno a questa questa logica mi trovo in questo blocco ho un blocco davanti a me no io vado avanti ho un blocco davanti a me sì e allora devo fare altro per esempio scendere ok se io scendo e sto in questo blocco a un certo punto rifarò tutto il giro e mi chiederò o il grass patto di me no perfetto non sono ancora arrivato mi chiederò posso andare avanti sì e andrà avanti e qui già dovete farvi un una domanda ok che ci dovrebbe dare delle indicazioni come facciamo evitare di non saltare questa pedana perché se mi trovo in questo punto e ho spazio davanti a me io andrei avanti ma invece devo andare in basso ok qual è la risposta la risposta è che tra l'andare avanti ed andare in basso io prima devo andare in basso quindi la precedenza move se sotto di me non c'è niente io devo andare in basso quindi come prima parte di ragionamento molto importante e che ce l'ha dato questa serie di blocchi vuoti questo passaggio è che se il nostro agent non ha niente sotto di sé lui deve scendere in basso e continuare a scendere fino a che non trova un blocco sotto di sé a quel punto lui andrà avanti diversamente in questa situazione lui andrebbe avanti scenderebbe poi in basso ma questa pedana non avrebbe più premuta passaggio successivo controllo ci chiediamo se forward davanti a lui forward non c'è un bel blocco davanti a lui io andrò avanti altrimenti cosa succede altrimenti sta qui sotto lui dice c'è un blocco sotto di me sì davanti a me no e andrò avanti andrò avanti andrò avanti fino a qui poi si dice davanti sotto di lui c'è un blocco davanti a lui c'è un blocco altrimenti devo posso andare in alto ok quindi qualunque altra cosa duplica per lui è move su ok quindi in questo punto lui andrà in alto ok a questo punto io vi invito a fare un ragionamento arrivare a questo punto ok e vi dico se noi adesso facessimo eseguire il quella serie di istruzioni il nostro agente riuscirebbe ad arrivare fino a questo punto vi faccio rivedere nuovamente il codice che abbiamo inserito ed è innanzitutto se non cambio questo no sicuramente premeremo il tasto numero 3 attenderemo due secondi verrebbe inviato il messaggio numero 3 ricevuto da questo insieme di istruzioni questa è la logica fino a quando sotto di me non trovo un grass pat io eseguo in continuazione questa serie di istruzioni e mi chiedo sotto di me ho uno stone brick no scendo altrimenti quindi sotto di me c'è uno stone brick mi chiedo davanti a me io non ho niente non ho uno stone brick allora provo andare avanti se c'è uno stone brick c'è sotto c'è sopra c'è davanti io andrò in alto ok se avete seguito questa logica converrete con me che qui c'è un problema ok vi do 5 secondi per cercare di capire dove il problema si diciamo si evidenzerà in questa punto e mettete anche in pausa il video se volete questo è il codice io intanto proseguo nella risoluzione o meglio nel nella prova di questo nell'evidenza di questo errore premo il tasto 3 ok due secondi di pausa ed ecco quello che avviene ok guardate cosa fa in continuazione il nostro agent si sta chiedendo siccome non ha raggiunto il grass pat lui dice sotto di me ho qualcosa no e scende giù quando scende giù si trova qualcosa e si chiede davanti a me c'è qualcosa si c'è qualcosa quindi non posso andare avanti ma posso andare in alto una volta che va in alto lui ha finito questa cosa ritorna su e la prima cosa che farà è scendere in basso un bel balletto premo stop così il nostro agent si ferma teretrasportiamo indietro il nostro agent con lo spazio perché lo spazio vi ho ricordato perché è questo parte di codice premo spazio teleport to the player e a questo punto rimettete il video in pausa e ragionate trovando la soluzione su questo codice bene io continuo la soluzione individuata consiste nel dire una volta che sei andato in alto perché è l'unica azione che puoi fare allora non mi basta più che tu vai in alto ma devi andare in alto e subito avanti ok vediamo se funziona questa logica in questo percorso andrebbe qui in alto e subito avanti in alto e subito avanti qui dovrebbe scendere in basso avanti questo dovrebbe scomparire avanti stessa logica avanti scusate in alto e subito avanti scenderebbe giù alto avanti e secondo me funziona ok a questo punto aggiungiamo questo blocco quindi in alto e subito avanti premo il tasto 3 ok e vediamo se il nostro agent non capisco perché è andato ok in alto perfetto alto avanti scendi scendi perfetto perfetto vediamo 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 e adesso si dovrebbe fermare perché perfetto siamo stati bravissimi perché il nostro agent ha trovato sotto di lui il grass path volevo farvi vedere un'ultima cosa come facciamo a ripristinare il tutto nel caso in cui magari i ragazzi avessero mandato avanti il l'agent fino a questo punto ma magari trovato un errore di logica nel loro codice da questo punto un po e come si va a ripristinare questo blocco che si è retratto allora è sufficiente cliccare questo pulsante perché qua c'è un pulsante tasto destro si apre la porta ecco per attaccare tasto destro si apre la porta e cliccare su questo pulsante che azione a quel blocco questo pulsante che libra a quest'altro blocco ok e quest'altro pulsante che libra a quell'altro blocco ora io me ne torno di là tutti questi diciamo e queste connessioni elettriche ok alle insegnanti non verrà mai chiesto quindi non vi siate terrorizzate e confidate nei vostri ragazzi che sicuramente sanno creare tantissime connessioni funzionanti quindi se un giorno dovesse creare un mondo minecraft con dei movimenti chiedete all'interno della vostra classe dove ci sono i più esperti minecraft allievi minecraft del mondo e detto questo credo che ci toccherà risolvere la quest'ultimo quest'ultima zona che è la zona numero 4 mi sembra perfetto è tutto per oggi bene se vi è piaciuto il tutorial di oggi e non volete avere il problema di perdere i prossimi tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante iscriviti e poi sul simbolo della campanella abilitate le notifiche del canale ed infine un ultimo click sul pulsante salva non mi resta a che salutarvi e ci vediamo al prossimo tutorial ciao ho 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 Grazie.